Grazie a tutti. È un progetto che è stato pensato e voluto all'interno del piano di zona, dai comuni che fanno parte del distretto sociosanitario di Sette, di cui il comune di Sciacca è capofila, ma gli altri comuni hanno definito insieme al comune capofila da sempre i progetti che devono essere di volta in volta realizzati, quindi Santa Margherita, Montevago, Sambuca, Caltabellotta e Menfi. Negli ultimi mesi si è discusso a lungo della necessità di riattivare in tempi più veloci questo progetto anche alla luce dell'esperienza recente del lockdown di marzo. Per cui ad oggi ci ritroviamo a presentare non solo alla città di Sciacca, ma a tutti i comuni che appunto aderiscono al progetto, che hanno pensato e voluto insieme al comune di Sciacca e all'ASP il progetto, l'importanza di questo sportello psicologico, che è uno sportello di ascolto, è uno sportello che non è solo rivolto agli alunni delle scuole medie e delle scuole superiori, ma è rivolto anche alle famiglie ed è rivolto anche agli insegnanti, in generale agli operatori della scuola. È un progetto voluto dal distretto sociosanitario che coinvolge quali professionalità e quali associazioni? Allora, il progetto è stato affidato tramite gara alla cooperativa Valden, che si sta già occupando dell'organizzazione del progetto, della realizzazione dei rapporti con le scuole. Ci saranno quattro psicologhe che si occuperanno delle diverse scuole di Sciacca e dei cinque comuni che fanno parte del distretto, con una modalità che va anche incontro a quella che è la situazione particolare che stiamo vivendo all'interno delle scuole, per cui le scuole medie sarà possibile farlo in alcuni casi in presenza, invece nelle scuole superiori in questo momento, attraverso dal remoto. Sono quattro le psicologhe già in ascolto e la sociologa di neuropsichiatria infantile dell'adolescenza dell'ASP di Agrigento Aurelia Labella a far emergere l'importanza di avere un supporto psicologico, soprattutto in questo momento di grave difficoltà legato alla pandemia. È molto importante, è molto importante adesso, ma lo era già quando siamo partiti con questo progetto circa dieci anni fa. Ricordiamo che questo è un progetto nato come sostegno alla genitorialità, poi è diventato sportello ascolto per i ragazzi, per i docenti e per gli insegnanti. Già da qualche decennio si è visto che l'infanzia e l'adolescenza non era quel periodo felice che si credeva o che si sperava che fosse. Tutte quelle che erano le ansie, i disagi, le preoccupazioni dell'adulto, inevitabilmente si vanno poi a ripercuotere sul benessere mentale del bambino, dell'adolescente e del giovane. Noi abbiamo, come ASP, quando dico ASP mi riferisco ai servizi di neuropsichiatria infantile, servizio di educazione alla salute e consultorio familiare, che da tempo istituzionalmente ci occupiamo della prevenzione del disagio e della promozione del benessere. Abbiamo deciso di uscire dai servizi e di andare nei luoghi in cui questo disagio nasce o si manifesta o deflagra. Sicuramente la scuola è uno di questi, è il luogo privilegiato, non solo perché lì incontriamo il 99% dei minori, ma perché lì il bambino, il ragazzo sperimenta le relazioni più importanti con il gruppo dei pari e con gli insegnanti, ma lì porta anche quello che è l'eventuale malessere o l'eventuale disagio. Ricordiamo che anche la scuola, per quelle che sono le prestazioni che richiede, può essere fonte di disagio per il minore, per il bambino. Lo sportello ascolto è lo strumento per intercettare precocemente il disagio, proprio nel momento in cui nasce, proprio perché consente, in un contesto che è già abbastanza noto al minore, di poter incontrare una figura professionale che sa accogliere questo malessere, lo sa riconoscere e sa offrire anche le chiavi di lettura per poterne venire fuori. In questo momento è di fondamentale importanza. Ce ne siamo accorti anche noi come servizio di neuropsichiatria infantile, abbiamo avuto richieste di intervento maggiori rispetto al passato, rispetto a sensazioni di ansia, di angoscia, di smarrimento, anche di attacchi di panico da parte di adolescenti. Il servizio offerto allo sportello ascolto è quello che in gergo viene definita consultazione breve, ossia 4-5 incontri che servono proprio a consentire al minore, ma anche all'insegnante, anche ai genitori, di poter far venire fuori quelle che sono le emozioni che sono rimaste, che si accumulano e che quando si accumulano possono creare sicuramente danno, dare un nome a queste emozioni e come dicevo prima fare in modo che possano essere riconosciute, sgranate e quindi anche risolte. Quei che tipo di riscontro avete avuto in questi anni? Lei diceva bene, non è la prima volta. Sì, questa è una nuova edizione. Abbiamo avuto un ottimo riscontro, abbiamo lavorato moltissimo all'inizio per andare un po' a smussare quelle che erano le resistenze rispetto ad un intervento di natura psicologico. La risposta che ci si sente dire è che il mio figlio non è pazzo, perché ricordiamolo occorre che ci sia l'autorizzazione da parte dei genitori, ma il mio figlio non è pazzo, o anche lo stesso ragazzino, ma io non sono pazzo. Ecco, non si tratta di pazzia, si tratta di malessere, si tratta di disagio. Quello che ognuno di noi ha sperimentato e sperimenta nella vita, quella sensazione del genere ho qualcosa ma non so che cosa, faccio fatica ad addormentarmi, mi sveglio presto al mattino, ho questo senso di malessere che mi porto appresso, non riesco a star bene con i miei amici, ho difficoltà relazionali in famiglia, con i genitori, non mi capisce nessuno. Ecco, tutto questo non è pazzia, è un malessere che deve essere decifrato e lo sportello ascolto dà questi strumenti. Abbiamo avuto un ottimo riscontro. Nella scorsa edizione sono stati effettuati 2.175 consulti psicologici. E vorrei sottolineare una cosa, gratuiti. Un consulto psicologico ha, diciamo, un costo medio che può andare dalle 40 alle 50, ma arriva anche 80. Non conosco adesso nell'immediato quello è il prezzo di mercato, ma voglio dire ha un suo costo. E avere offerto alla cittadinanza questo servizio gratuito è stata un'ottima opportunità e continua ad esserlo. Fragilità, disagi, difficoltà. Lei ritiene che in questo periodo che stiamo vivendo, l'emergenza Covid, il lockdown, questo modo di vivere stravolto, aumenti ancora di più e quindi ci sia ancora più bisogno del supporto psicologico, soprattutto per questi giovani, perché magari gli adulti siamo un po' anche capaci di fronteggiare. Gli adulti riusciamo a darcene meglio, a darcene una ragione, ma questo non significa, diciamo che abbiamo più strumenti per fronteggiare il malessere piuttosto che i bambini e gli adolescenti. Quanto i giovani invece pagheranno questa situazione in termini proprio di... Ovviamente io mi auguro pochissimo ed è per questo che gli adulti dobbiamo essere pronti a sostenerli e ad intervenire. Indubbiamente stanno pagando, stanno pagando perché l'adolescente si costruisce nel confronto con l'altro. L'adolescente va incontro all'età adulta con quelli che sono i compagni di viaggio fondamentali, che sono gli amici. Allora mi ricordo che parlando con le colleghe dicevamo queste misure stanno togliendo di mezzo, il termine uccidere è bruttissimo, quello che era il compagno di banco, la compagna di banco, cioè la persona... L'amica del cuore. L'amica del cuore, ecco. E quindi quando per strada ci capita di incontrare, vediamo spesso, ragazzini e ragazzine che sentono proprio il bisogno di toccarsi con la spalla e che sentono il bisogno di stare così vicino, da un lato deploriamo, diciamo state attenti, ma dall'altro capiamo quanto per loro sia importante. Per fortuna loro prima di noi hanno sperimentato e hanno imparato ad utilizzare i social. I social in questa situazione hanno avuto un risvolto quantomeno positivo. Quanto meno questa cosa positiva. E' servita a mantenere la relazione. Ma sta servendo anche a farli anche un po' costufare, perché quando stanno tante ore davanti al video per seguire le lezioni è chiaro che poi sono stanchi. Le attività dello sportello ascolto erano previste in presenza, ma a causa delle attuali restrizioni si è deciso di attivare anche la modalità telematica. Lo sportello è gestito dall'Istituto Valden di Menfi. Noi abbiamo dovuto, ovviamente, causa pandemia, riformulare un progetto che prima come modalità di aggancio vedeva le nostre psicologhe andare direttamente in classe, farsi vedere, conoscere fisicamente anche dal tono di voce dai ragazzi. Invece questo per adesso non è possibile. Noi speriamo, insomma, di poterlo rifare poi fra qualche mese e riproporlo secondo le modalità progettuali. Ma l'Istituto Valden non si ferma, no? Cerca di andare oltre l'ostacolo. E abbiamo deciso, insieme a tutta l'equipe di coordinamento, di creare un video. È il video che vi abbiamo fatto vedere. In questo video utilizziamo una modalità di aggancio. È un video fresco, è un video carino, dove le quattro psicologhe rispondono alle domande più usuali che solitamente ci fanno tutti. Chi è lo psicologo? Perché lo sportello? Come funziona lo sportello? E loro che non fanno questo di mestiere, perché è molto difficile decidere di mettersi davanti a una telecamera da professioniste, lo hanno fatto cercando di agganciare nel modo più funzionale possibile i nostri ragazzi. Dicevano bene l'assessore e la dottoressa Labella che questo progetto è fatto, creato, non solo per i ragazzi, ma anche per le famiglie e anche per gli insegnanti. Anche lì, come istituto Valden, abbiamo riformulato il progetto. In questo momento, e vi possiamo dire che lo sportello è già attivo da quasi un mese, le maggiori richieste vengono proprio dagli adulti. Come praticamente ci si può mettere in contatto, si può usufruire di questo servizio? Il nostro servizio viene legato a quattro numeri di telefono, che sono dei numeri di telefono dedicati, che le nostre psicologhe hanno. Ovviamente, capirete, sono quattro psicologhe. Fondamentale, di fondamentale importanza, voglio sottolineare, sono i referenti degli istituti scolastici, perché grazie a loro si arriva nelle classi, si arriva alle famiglie. Ovviamente, per i minorenni ci vuole l'autorizzazione da parte dei genitori. E con questi numeri dedicati si affrontano i colloqui, che in questo momento sono dei colloqui fatti online e da remoto. Noi ovviamente dovevamo garantirli in presenza, ma non si possono fare. Quindi anche noi utilizziamo questa modalità moderna e più funzionale. E i ragazzi possono mettersi in contatto, ovviamente, garantendo il rispetto della privacy con le psicologhe per farsi sentire. Vedrete anche nel video che noi abbiamo una frase che ci piace lanciare sempre e continuamente, che è noi siamo già in ascolto. Perché tutto quello che serve ai nostri ragazzi, ma anche ai nostri insegnanti, e devo dire anche alle famiglie, è in questo preciso momento di grande confusione pandemica che sta lasciando momenti di emotività spezzata, è quella di sentirsi ascoltati. E allora noi siamo già in ascolto. Grazie a tutti.